Radio Messaggio Cristiano Ascoltiamolo insieme e vi auguriamo buon ascolto e buona visione con la pace di Gesù Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, oh Signore, alleluia, alleluia Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo Signore, ancora questa sera ti vogliamo esprimere Signore, l'amore che c'è dentro di noi Signore, anche se non ci sappiamo, Signore, esprimere con parole Però, Signore, tu ci comprendi Perché comprendi l'espressione del cuore È proprio così che ti vogliamo parlare questa sera, col cuore Alleluia, offrirti ogni cosa col cuore e con l'anima Gloria al tuo nome Ed esserti fedeli in ogni cosa Quindi guidaci tu, Signore, dal principio alla fine di questo culto Alleluia Che la tua presenza, Signore, sia in mezzo a noi Che i tuoi angeli, Signore, siano seduti accanto a noi Affinché anche loro e noi con loro possiamo glorificare il tuo santissimo nome Ed anche insieme a quelli che non sono potuti venire Al trono, quindi, della tua grazia Ogni cosa, ed ogni cosa sia fatta per la tua gloria E per la gloria di Gesù Ora e sempre, in eterno Amen, alleluia Amen, Amen E per la gloria di Gesù 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 Grazie a tutti. 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 Allora, ognuno deve dire, se lui torna per me, in che posizione mi trovo davanti a lui? Perché se uno dice Gesù ritorna, no? Dice Gesù ritorna, sì, ma mi sa dire a testa che tu fratello non ne mancia, ma da sorella poi peggio ancora, no? E uno si perde in questi pensieri? Allora, allora non realizza niente e quando Gesù ritorna dice, ma tu a cui pensavi? Dice, mi dice, mi dice, tu come eri? Come ti trovavi? Come ti trovavi? Allora abbiamo cantato, Gesù torna, tu torni per me, dammi di farmi trovare sempre pronto. Amen, gloria a me, 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 gloria a Dio, e così vogliamo sempre chiedere questo, guardate. E attenzione, perché, sapete, dice che le maldicenze, poi in dialetto i cuttighi, sono come ghiottonerie, a me? Cioè, cose che piacciono, uno non si sta, ce ne sono certuno, però si sta strutturando uno gioie, quando taccano, ah poi, perché l'hanno tutto attaccato con filo, uno ha preso l'auro, dice, ma si interromperà io un attimo? Niente, assolutamente, dell'uno passano all'auro, con una semplicità, con una, come se sarei un abituato tutti gli anni a fare un giurdo scusso da Giacuccio, no? Alleluia, e allora, fratelli, ognuno di noi deve guardare se stesso, se stessa, e non lasciarsi prendere la mente dall'avversario che, magari, mette davanti ai nostri occhi, per dire alla nostra mente, no? Magari a qualcuno, che noi oggi non sopportiamo, ma che fa l'apposta, no? E allora, ci distrae la mente dal lodare, glorificare il Dio, alleluia, quindi, ora, voi pensate, sia fatta la tua volontà qui in terra come nel cielo. Voi immaginate, no? Soprattutto quegli angeli, no? Che il Signore affida dei compiti per venire sulla terra. Perché voi non pensate. Vedete che ogni, non ogni giorno, del continuo, tra cielo e terra, c'è un via vai di angeli. Che scrivono e riportano tutto per essere il tutto scritto nei registri di Dio. E voi che pensate? Che gli angeli, molti angeli che vedono e sentono, si mettono poi a sira, no? Ma che te ne pare, eh? C'è un angelo, all'altro angelo, all'angelo, all'altro, te ne pare. Te ne cugiste a chi, Duda, ma quanto è cretino. Poi ha un reangelo, che ne sai, io andai, io sono andato in casa di tizio, ma che ne sai, che cottigliare che sono, e si mettono a parare, il tempo si va a passare, non toccelo, è giusto? C'è l'eternità, figliolo, come si consuma l'eternità? I cottigli ci fanno pure in cielo, figliolette vai, stiamo attento, la tua volontà si è fatta qui terra come in cielo, quindi cerchiamo di eliminare il più possibile tutte quelle cose che possono impedirci a crescere spiritualmente. Alleluia, Amen, Gloria a Dio. Quindi noi non ci dobbiamo occupare più di quello che dicono o di quello che fanno gli altri, ognuno deve interessarsi della propria persona. Poi se uno vuole, dice, ma sai fratello, così non è che c'è una cuggia stufato, o se te ne accuggisti, prega, Amen, così non interrompi la comunione con Dio. Ma se tu ti lasci bloccare o distrarre da ciò che l'avversario ti ha fatto vedere, tu hai interrotto la comunione con Dio e hai perso quello che avevi acquistato, magari in tanti giorni o in tanti mesi. Amen, Alleluia. Attenzione, quindi non sottovalutiamo l'astuzia dell'avversario, perché in quest'ultimo periodo l'avversario è ancora più spietato, perché sa che gli sta ormai rimanendo pochissimo tempo. Quindi, sapete, lui sta facendo di tutto, va attorno veramente come un leone ruggente. Amen, gloria a Dio. Quindi, attenzione, non pensate che l'avversario in quest'ultimo tempo è più calmo. No, 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 no. È più spietato di prima, perché sa che gli è rimasto poco tempo. Amen, Alleluia, Amen. E così, vogliamo passare alla lettura della parola di Dio, come il Signore l'ha stabilita anche questa sera. Amen. Allora, vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, cioè la parola dice, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli, cioè Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli era la luce vera, cioè la parola, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, ed il mondo fu fatto per mezzo di Lui. Ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa Sua, ed i Suoi non lo hanno ricevuto. Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel Suo nome. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne, era abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, come gloria dell'unigenito, proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni testimoniò di Lui, e gridò, dicendo, Questi è colui del quale, dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla Sua pienezza grazia sopra grazia. Alleluia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, e colui che lo ha fatto conoscere. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Sapete? Ecco, sono le meraviglie, come sempre, del Signore. Ed ecco la guida dello Spirito Santo. Aspetta, in quale stato? Ultimamente che ci ha fatto rilevare una cosa, in questo momento non me la ricordo. Ecco, che noi abbiamo letto sempre, però non avevamo posto mentre il Signore poi ci ha spiegato. In questo istante mi sfugge, era un culto fa. Che lui corse, amen. Lui corse, dice, quindi l'errore stava in questo, che uno che è accanto, se l'aveva accanto, non corre da corsa per ci va in concio. A me, perché non si gira tutto così? E accanto a una gente a distanza. Amen. Quindi ecco, il Signore, vedete, ecco, lo Spirito Santo, come anche se ci dovessero essere degli errori di scrittura, che avrà un... Perché la usano a capire, no? Di scrittura, di traduzione. E allora, quindi, subito lo Spirito Santo interviene, dice, alt, vedi che il traduttore ha sbagliato, non ha capito e non ha saputo tradurre. Allora, ecco lo Spirito Santo, vi ricorderà le cose che potete, ve ne annunciate dagli altri e vi guiderà in ogni verità. Dice, beh, e stasera che voglio dire questo? Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Fratelli, il Signore con il suo Santo Spirito mi ha illuminato. E questa traduzione, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. E' una traduzione impropria. Dice, ah, c'è ora, c'è molto zappato, c'è molto difficile. Come? Lo disse, c'è, il fratello dell'Oca, e ciò faccio? Ne sta dicendo tutti quelli che sono stato detto, no? E' una traduzione impropria. Perché? E lo spiego subito. Perché il Signore l'ha spiegato a me. Allora, nel principio, era il verbo. Ed il verbo era con Dio, ed il verbo era presso Dio, quindi, e il verbo era Dio. Non la parola. Perché, guardate, dice, ma che c'è? C'è un abisso, fratelli. Perché la parola è una cosa, il verbo è un altro. E alcuni traduttori antichi traducevano con, nel principio, alleluia, era il verbo, ed il verbo, alleluia, era presso Dio, ed il verbo era Dio. Vedete, fratelli, ecco, lo Spirito Santo e questi insegnamenti, vedete che non sono a livello di chiesa. Può dire, va, questi sono insegnamenti, ammaestramenti, a livello altissimo, eh, di persone spirituali, soprattutto pastori, eh, che devono conoscere bene la verità per insegnare bene la verità. Alleluia. Guardate. Ora, ripeto, io, frigliole, io arrivai, voi lo sapete? Non mi vergogno di dirlo, perché, appunto, poter che tutta la gloria deve andare a Dio. Quindi, se io faccio errore della grammatica, non ci faccio da caso, ma errore spirituale, fino a questo momento, il Signore non me ne ha fatto fare neanche uno. Alleluia. E allora, nel principio era la parola. Che vi dice sto fatto? Nel principio era la parola. Fratelli, prima di questa sera, anche a me aveva detto molto, nel principio era la parola. Ma questa sera, da quando il Signore mi ha illuminato, e che mi ha detto che è più, che è corretto, non più corretto, è corretto, è giusto. Attenzione, no, è più corretto, quindi fai come vuoi. E poi, amè, perché, dicendo, traducendo la parola e traducendo il verbo, eh, sono due cose distinte e separate, con significati profondi e diversi. Allora, vediamo un po' corrapigia a qualcuno, lo metto in soggezione. Non sentiero qua, anzi. Mi traduci per, mi, mi, eh, con il verbo parola. Mi rivedi il verbo essere? Io so, sei. Eh, no, 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 non l'ho detto, lo so che lo sai. Ho voluto dire, per far capire la differenza. A me? La parola non è un verbo. La parola, che cos'è un verbo, è la parola? Sostantivo, mi pare, se dici? Eh? Figlio lei, io avevo 60 anni che non vai più a scuola. Quegli cosa mi scudai. E poi? Fu promosso. Che mi disse il professor, tutti i professor dissero, vado, non c'è bisogno di venire più a scuola. Non ci farei spennare più sui dati a tua mamma e a tua padre. Perché tanto si già, tu, chi potrà fallimento alla mossa? E allora, se noi traduciamo, invece, se noi, diciamo, nel principio era il verbo, fratello, andate. Perché il Signore poi, sapete, quando il Signore mi ha illuminato, mi ha detto questo, fratello, non vi nascondo che già sia in crisi. Vedete che quando il Signore mi rivela qualche cosa profonda, io già sono in crisi, eh? Ma non pensate, perché è come uno si riceveva una moffa all'approvviso, senza persaspetta. Come quando mi ha rivelato che cos'era il macchio della bestia. Ma è come se mi ha rivelato una moffa, subito, po! Quando questa sera il Signore mi ha illuminato dicendomi, vedi che c'è differenza tra la parola e il verbo. Dice, ecco. Chi si presentò a Mosè nel pruno ardente era l'angelo dell'Eterno. E' vero? Non era l'Eterno in persona, il Padre. Era l'angelo dell'Eterno. E poiché come il Signore ci ha insegnato che l'angelo dell'Eterno, cioè è il figlio, ed il figlio è stato generato dal Padre, dalla sua stessa cellula vivente, o vediamo se ve lo ricordate. Mosè ha detto, Mosè ha detto, dice, ma io come posso andare dagli israeliti? Che diceva? Ma pare che tu ridessi tutti i baffi, pure che non hai. Non più dare, pare che non dici a te. Forse hai avvisato qualcosa, è vero? No. No, ma è il discorso del verbo, è vero. Ah, ecco. Eh, questo, io non ti devo dire a volo. E allora, cosa ha detto? Figlioletti, vedete queste cose? Un figliolo, una persona, che fu bocciato un tase con una media, che qua non hai. eh? Che sì, effettivamente c'era schedina, ma poteva giocare, e poi darsi che diventava ricco. Eh? Alleluia. Non potessi oggi come oggi, scendere in queste profondità spirituali. Quindi, state attenti. Allora, Mosè disse, come faccio io ad andare, dai, dagli anziani, d'Israele, dai miei fratelli, che cosa devo dire io? Chi mi manda? Allora, l'angelo dell'Eterno disse, dirai, la parola ti manda. No? Non fu così. No? E come fu? Dirai così. Dici, qual è il suo nome? L'io sono. L'io sono. è colui che ti manda. Vedete che è verbo? È vero o no? Io mi rivolgo a voi, se siete più sapientoni, perché l'astucio sei a mia scuola. Vedete che è verbo o non è verbo? Vedete che le due cose non si possono conciliare? Che te ne sei accorto? È vero? La parola è stata una cosa che è stata trattata a tutti. La parola è stata una cosa che è stata trattata a tutti. È sbagliato, è tutta la parola che è stata riuscita. È un principio, perché... Forse le robe sono fatte dal latino, perché il latino è verbo, vuol dire parola. Quindi chi ha tradotto, forse ha pensato di migliorare, invece vuole. Esatto. Ma, diciamo, anche se dal latino vuol dire, però il latino abbiamo, abbiamo, ego sum, tu es, il est, il nostro sum, il nostro sum, il vostro est, e questo è questo che sono, boom, 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 boom. Verbo essere. O no? C'era. È vero. Ego sum, io sono. Che cosa c'è? Vedete, mi rivolgo tu, sanno? Alleluia. Vedi che già il verbo, è chiaro, vuol dire parola, però, va oltre, perché la parola non si può coniugare. Si dice coniugare? Vebbi, no? È giusto? Una parola, un sostantivo. Ma ecco, invece, perché il Signore, vedete, si riferiva a questa parola, a questo verbo. E se ci fate caso, lui, eh? Quindi, ecco, la parola. E da escludere, veramente, stasera, fratello, vado a dare, magari, i brazi, come si può dire. Perché? Quando il Signore diede i dieci comandamenti, che disse? Io ho la parola, non avrai altro Dio all'infuore di me. Io ho la parola, il tuo Dio. No! Io sono l'Idio tuo e non avrai altri Dio all'infuore di me. Guardate che e il Signore ha preso i due verbi, l'essere e l'avere e li utilizzò tutte e due a partire, lui stesso, con i dieci comandamenti. Come? Guardate. Io sono, come lui aveva detto a Mosè, l'Io sono dirai che ti manda. quindi io sono il Signore e Dio tuo. Guardate come utilizzò anche il verbo avere. E non avrai altro Dio all'infuore di me. E' vero? Vedete che sapete che andai a scuola? Fratello, come può una persona effettivamente in un batter di ciglio arrivare a queste profondità? Ecco l'opera dello Spirito Santo. Gloria all'Altissimo. Ed infatti guardate e se ci fate caso eh? tutti i comandamenti eh? Sono verbi. Mi pare che tutti i comandamenti sono verbi. All'infuore? No, va pure che lo dà. Perché ricordate del giorno del sabato per santificarlo. Quindi santifica. Santificare verbo. Amen? Alleluia. Onora per esempio non avere altri di Amen? Non avere. Onora tuo padre e tua madre. Verbo onorare. O no? Amen. No voi insomma li sto dicendo così non come sono scritto tutto a pappagardo a pappagardo e allora il per esempio non dire falsa testimonianza io dico tu dici gli dici non è anche un altro verbo guardate come ci sono tutti i verbi eh? se spegniamo tutti gli dici ecco oh non dire falsa testimonianza eh non eh poi eh 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 non rubare non uccidere non desiderare la donna d'altri la roba d'altri vedete sono tutti verbi alleluia quindi alleluia vedete come il signore alleluia usò già dall'inizio proprio i verbi alleluia a me gloria a dio alleluia e proprio quando il signore ecco nel principio era la parola eh la parola ah 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 ripeto non dice niente alleluia è vero o no ora che il signore ci ha spiegato a me fratelli ora sta parola non dice proprio niente è vero eh gloria a dio ora è cambiato tutto alleluia guardate invece nel principio era il verbo quale verbo il verbo essere nel principio era il verbo io sono alleluia amén e guardate nel principio quindi il verbo allora facciamo così eh come il signore mi ha dato da capire speriamo che io riesca a spiegare a farlo capire anche a voi no allora nel principio era il verbo l'essere no e l'essere era presso dio cioè e l'io sono era presso dio deve dire che l'io sono ti manda quindi l'io sono l'angelo dell'eterno era presso dio amén quindi l'io sono quindi la prima persona del verbo essere l'io sono era presso dio e l'io sono era dio vedete che ora era un quasi discusso la parola non quasi ha fatto benedetto sia l'altissimo sembrano delle piccole cose ma fratelli chiede che siete laureati diplomati oppure che superaste la seconda media ma capite meglio no è vero o non è vero che le cose la cosa è diversa è vero o non è vero è completamente diversa perché la parola come come l'abbini ma se prendi l'io sono allora lo abbinerà per tutto allora l'io sono era presso dio l'io sono era dio alleluia egli l'io sono era nel principio con dio vedete gloria a dio dopo tutto un quadro così ora in una maniera perfetta l'io sono era alleluia nel principio con dio l'angelo dell'eterno l'io sono colui che ti manda quindi l'io sono vero presso dio era era dio ed è dio alleluia tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui qua dice tra parentesi la parola no tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui l'io sono per mezzo dell'io sono e senza di lui vedete che pure lo stesso che dice che traduce poi a maschile no non dice senza di lei la parola dice senza di lui perché appunto senza di lui l'io sono e senza dell'io sono nessuna delle cose fatte è stata fatta in lui cioè nell'io sono era la vita e la vita era la luce degli uomini vedete ciò che ha tratto l'inganno come ha detto la sorella è stato perché dal latino no verbo vuol dire parola però vedete quant'è l'indispensabilità dello spirito santo alleluia benedetto sia l'altissimo alleluia in lui quindi nell'io sono ricordiamoci sempre che sto qua l'io sono quando l'angelo tenendo che era Gesù gli ha detto a Mosè dirai così l'io sono è colui che mi manda non gli ha detto la parola gli dirai la parola è che mi manda amén gloria a Dio alleluia e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa alleluia e ora comprendiamo perché l'io sono è luce il suo volto dice Giovanni nell'apocalisse era come il sole che risplende nella sua forza i suoi piedi come terzo rame alleluia amén i suoi capelli bianchi come bianca vana insomma ecco vivò un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui egli cioè Giovanni non era la luce ma vedete fratelli che ora guardate l'io sono è perfettamente abbinabile con luce perché Gesù l'io sono è luce è vero la parola non è luce è vero vedete guardate come effettivamente già cambiando cioè traducendo nella maniera corretta come il tutto si incolla bene si incolla meglio è vero almeno io sto comprendendo lo sto comprendendo così fratelli non è che io dice vada lì ho studiato hai i fogli scritti e qua a Bibbia è vacante vuota guardate quindi quello che sto ricevendo sto dicendo ecco quindi ricevendolo se questo è così meravigliosamente comprensibile per me diversamente di prima credo che lo sia anche per voi è rafforzativo eh è rafforzativo esattamente cioè è come guarda benedetto sia l'eterno e con questa traduzione così è come qualcuno che abbia fatto un tema e che ne scivo leggermente fuori tema è vero è come se fosse uscito leggermente fuori tema e magari che lo sai leggermente allora oppure una versione ecco invece parliamo di versione a questo punto è più corretto forse dire ecco perché io quando andavo a scuola pur tu no? quando andavamo a scuola io andavo a scuola tu stai tu stai andando a scuola voi i giovani state andando a scuola ci sono allora c'erano le versioni che noi dovevamo fare no? per esempio da latino in italiano o di italiano in latino o di francesi in italiano o di italiano francesi poi c'è oggi faranno pure l'inglese non lo sanno come stanno le cose oggi no? però credo che sia così allora allora chi traduce più fedelmente fa capire meglio ci sono chi invece che traducono sì ma traducono come se hanno a testa in tallaria e quasi quasi non fanno capire il testo originale si chiama così quello testo originale io io mi 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 qualcuno no con l'italiano questo questo è un onore per me perché se io non mi appoggio su quelle che ne sanno più di me come lingua italiana cioè è meglio perché effettivamente eh eh perché altrimenti sarebbe tutto così o invece coinvolgo anche le altre alle glorie a Dio vedete allora come chi tu già dice c'è che ha il dono delle lingue e il dono dell'interpretazione delle lingue quando io non sacco una cosa c'è un domani acquiavo l'interpretazione delle lingue cioè a chi che studiano l'italiano mi chimi no alleluia e allora guardate che questo l'ho detto sotto forma di scherzo ma è così nella realtà in modo tale che il signore non esclude nessuno alleluia tutti lavoriamo nel campo di Dio perché dice se io volevo fare mettiamo un laureato e davo questo fratello di Luca chiamava secondo me e chiamava un laureato e non c'era bisogno di spiegare dove andava qualche cosa è giusto invece così ecco il signore mi fa parlare però ecco mi fa capire anche che anche io ho bisogno di voi come voi avete bisogno di me a me a me gloria a Dio e allora guardate allora vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni dice questi venne come testimone testimone per rendere testimonianza alla luce vedete che quindi Giovanni dice che Gesù è luce e Mosè quando quella voce gli disse l'io sono Giovanni vive la luce il fuoco nel roveto ardente vedete come le due cose sono unite eh quindi guardate che differenza l'io sono quindi colui che è con la natura di colui che è fuoco consumante luce inaccessibile non parola alleluia amen guardate come ha perso di valore la parola ma non si è più a niente gloria a Dio gloria all'altissimo questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui cioè di Giovanni egli non era la luce cioè Giovanni Battista ma fu mandato per rendere testimonianza della luce egli ecco vedete qua dice egli fra parentesi la parola no egli l'io sono era la luce vera vedete che è un quadro discorso ora è vero o no egli l'io sono era la luce vera se io dico invece egli la parola faccio fatica è come se vado lì a indovinare alleluia egli l'io sono era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo egli l'io sono alleluia amén era nel mondo ed il mondo fu fatto per mezzo di lui quindi il mondo non fu fatto per mezzo da parola ma fu fatto per mezzo di l'io sono cioè tutte le cose sono state fatte per mezzo del figliuolo di dio che è luce vera che fa parte che è parte integrante dell'io sono del padre alleluia egli quindi era nel mondo il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non lo ha conosciuto egli è venuto vedete fratelli egli è venuto non dici essa è venuta la parola egli è venuto l'io sono è venuto alleluia egli è venuto in casa sua ed i suoi non lo hanno ricevuto alleluia ma tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità o il diritto di diventare figli di dio a quelli cioè che credono nel suo nome alleluia i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da dio sono nati dall'io sono alleluia dice e la parola si è fatta carne frate il mare lasciatemi con grande gioia lasciatemi sostituire sta parola allora e la parola si è fatta carne e l'io sono si è fatta carne che si dice carne l'io sono e si dice carne la parola ecco vedete la traduzione giustamente come diceva la sorella che dal latino eh il verbo vuol dire parola però vedete ci sono anche tanti vocaboli simili che a secondo come si pronunziano o si abbinano assumono forme significati diversi è vero non è vero amén gloria a Dio ti quattro o non ti quattro ti quattro ti quattro va bene ci siamo fratelli tutto vedete quindi in questo caso quindi il traduttore ma ammazza ora Dio date in questo caso o chi perché può darsi che la vecchia Dio date può darsi che dice il verbo no no sempre parola dici allora ci saranno i ricchi vedete e allora quindi in questo caso loro e poi e poi c'è un altro fatto che diciamo le scritture non sono state tradotte dal latino sono state tradotte dall'aramaico insomma da Gregor insomma no comunque ma non scendiamo in certe parti l'importante è questo che nel principio l'io sono eh e nel principio era l'io sono l'io sono era presso Dio e l'io sono era Dio cioè divinità figlio di Dio l'io sono quasi fratelli fratelli qua si riferisce tutto all'angelo dell'eterno perché vedete che era presso Dio quindi chi era presso Dio il pace stesso no è giusto quindi qui parla chiaramente ed esclusivamente di Gesù delle sue origini che era l'io sono parata candalamassia e che era presso Dio quell'io sono che disse a Mosè vai in Egitto alleluia quindi e la parola si è fatta carne allora come si dice correggiamo e l'io sono si è fatto carne ed abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria quindi gloria dell'io sono amen e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come dell'unigenito vedete gloria a Dio gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal padre piena di grazia e di verità alleluia Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo alleluia questi è colui del quale dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me perché era l'io sono amen quindi l'io sono non solo che era prima di Giovanni ma come Gesù un giorno ha detto e agli scrive i francesi e tutti quanti prima che Abramo fosse io sono amen gloria a Dio alleluia quindi questo è colui del quale dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia dalla sua pienezza dalla parola o dall'io sono vedete che tutto deve essere ora eh fratelli sapete come come lo posso paragonare satira come quando guardate una bella pietanza no bellissimo con tanti ingredienti e tutte cose però ci mancava il sale e l'oggio manciate una cosa bella buona che vi piace senza sale e senza olio amen gloria a Dio quest'io sono alleluia ci mi scusate e l'oggio amen e lo stiamo assaporando alleluia gloria a Dio e lo stiamo assaporando veramente grazie a quell'io sono alleluia alleluia che si fece uomo a quell'io sono che si fece crocifiggere a quell'io sono che risuscitò dai morti a quell'io sono che ha detto io vado a padre a prepararvi un luogo affinché dove io sono affinché dove io sono siate anche voi alleluia alleluia benedetto sia all'eterno alleluia questo è colui del quale dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me e noi tutti abbiamo ricevuto la sua pienezza grazie sopra grazia poiché guardate guardate come anche Giovanni o meglio lo Spirito Santo fa collegare Giovanni oppure con Mosè poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè alleluia l'io sono a cui ci disse il Signore dirai l'io sono mi manda da voi alleluia a Mosè allora per mezzo di Mosè abbiamo ricevuto la legge ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo chi è Gesù Cristo? è il figlio di Dio e le sue origini Lui lo sono amè alleluia nessuno ha mai visto Dio l'unigenito figlio che è nel seno del padre è colui che lo ha fatto conoscere alleluia amè quindi Gesù che è nel seno del padre l'io sono figlio nell'io sono padre alleluia ci ha fatto conoscere la verità e ci ha ridato la vita alleluia dite niente e sapete quello che il Signore quando io effettivamente quando Lui mi ha dato quella rivelazione che mi fece vedere cioè che mi disse queste sono le mie origini vi ricordate allora ho detto Signore se queste sono le tue origini qual è il tuo nome? eh? e Lui mi ha risposto allora Etere è il mio nome no? allora lì per lì io dissi perché per questo intendimento ma ero sveglio fratello questo tutto sveglio non è che stavo facendo un sogno questo non è la realtà allora dissi cioè l'essere eh? lui mi disse sì per dire sì però a noi per dire sì in parte ecco sapete poi qualcosa mi ha spiegato perché ha detto questo? perché vedi io mi sto rivelando a te e sto rivelando le mie origini se tu devi dire queste cose agli uomini soprattutto agli scienziati tu non gli potrai dire l'essere perché non ti comprenderebbero e si scannerebbero per giunta allora tu dirai Etere è il suo nome dice questo Etere perché ripeto gli scienziati dicono che l'Etere è quella presenza quella massa che dà eh diciamo eh forma alla materia perché senza l'Etere senza questa parte che c'è nello spazio allora le particelle non potrebbero prendere eh consistenza forma amene quindi allora ed è giusto perché così passando attraverso l'Etere che è Gesù amene le cose prendono forma amene questo è un'esplicazione del Signore ecco perché mi ha detto e mi disse sì però tu non ci puoi dire così all'autom amene tu dirai che è Etere e infatti gloria a Dio vedete guardate che eh diciamo l'Etere come il Signore si è mi ha detto che sono le sue origini e il suo nome guardate che è stato eh studiato anche da da scienziati addirittura in mezzo a loro eh dice che c'è stato anche uno scienziato eh credente amene che affermava che eh l'Etere è eh 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 qualcosa di divino alleluia io poi l'ho saputo queste cose ma quando il Signore mi ha detto ero io come un picceridio che io 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 dico io sono l'essere amene ma ti dico che sono etere in modo tale che gli uomini soprattutto gli scienziati comprendano che la creazione il tutto viene alla all'esistenza per mezzo dell'Etere che sono io amene non escemo che spiego oh finalmente fu promosso dopo d'antenne alleluia e qui mi fermo e insieme a voi voglio glorificare questo nostro Dio questo nostro Padre Celeste questo Gesù così meraviglioso quest'essere l'io sono che tanto ci ama e tanto ci ama ancora amene e Dio ci benedica grazie Padre grazie Gesù alleluia amene continua a rimanere con noi Signore e che lo Spirito Santo Signore non ci faccia dimenticare Signore nessuna cosa di quanto ci hai fatto udire Signore con i nostri orecchi alleluia gloria al tuo nome sì Signore incidili nel nostro cuore nella nostra anima Signore con il tuo dito col fuoco di Dio alleluia glorita la massi alleluia ed ogni cosa sia sempre fatta per la tua gloria Padre e per la gloria di Gesù benedetti in eterno alleluia amene per la tua gloria e per la tua gloria e per la tua gloria cerca di torno il campo verde dove un cibo è sia abundante trova la terra che sta fondata verso la ponte più griglia che c'è e per la tua gloria che distingue la mia che nel suono chiara e dolce nel terreno della chiama a vasto e salve il tuo dente sì che si rungi ognuna verde vince carone che ha la vita quando ti ascolta e porta con sé tu mi ha visto guardi il uomo che abbia Dio il suo cuore come tua ma che mi riempia il vincolo e il consolo all'inizio che siamo e lui è gentil si è celebrato il suo nome e il mio destino più perventi fuori si veda che dentro gli è alleluia amén grazie padre grazie di tutto grazie perché ancora questa sera ci hai onorati con la tua presenza signora maestrandoci signore in ogni cosa alleluia rendendoci partecipi della tua verità della tua conoscenza alleluia gloria al tuo nome per seguire la vera via che porta al cielo la via della sincerità dell'onestà glorita la massia della giustizia non dell'inganno della bugia alleluia gloria al tuo nome come il mondo ama fare gloria al tuo nome così mantienici sempre fedeli a te padre e a Gesù ora e sempre in eterno amén 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 che Dio sia lo dà amén siamo stati nuovamente alla presenza del signore una presenza che non manca mai per grazia sua e che culto dopo culto ci ammaestra ci rinnova ci ricorda cose che ci aveva già detto e ce ne annuncia delle altre ringraziamo tutti insieme il signore per l'opportunità che ci dà ogni martedì e venerdì sera di stare insieme a lodare il signore a lodare il suo nome ed ascoltare la sua parola come ogni domenica mattina attraverso la diretta del fratello Nino alle 10 e un quarto sempre su youtube facebook e sulla nostra frequenza radio e prima di salutarvi attraverso la frequenza radio lasciarvi in compagnia di l'ultima trasmissione vi ricordo il nostro numero 349 64 11 232 349 64 11 232 pace buon ascolto e alla prossima trasmissione del culto grazie a tutti grazie a tutti